E benvenuti in questo nuovo video di SmackDown Versus 2011 Raga oggi abbiamo un match a 3 per un titolo che è TMGamer22 contro Stepney e Mr.Sfigol Quindi buona visione! Non ho mai fatto per stontato quello che facevo perché lottavo a mani nude e mangiavo veleno Oh oh oh, Stepney! Oh oh oh, Stepney! Oh oh oh, Stepney! Oh oh oh, Stepney! La colpia che incontra il genio discurso ed ogni giorno un nuovo video perché a noi piace il lusso Se stai cercando cose fuori di testa e del gusto, resto qui fratello perché sei nel posto giusto Bella ragazzi tuoi e Stepney cambia la giornata perché sul clima era figata, ora è coordinata Venti 4 ore di live, non sono una passeggiata ma adesso corre a pranzo che la nonna si è cazzata Per anni incatenato a terra ma io ci credevo, o Stepney è combattuto adesso guardo verso il cielo Non ho mai dato per stontato quello che facevo perché lottavo a mani nude e mangiavo veleno Oh oh oh, Stepney! It's a shame! And their opponent... John Pezendo! The Superstar! Yeah 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 Gett Glastonbury Grazie a tutti. Bene, giotto di scatto e canza mezzaterra TMTRGamer22. Bene, raga, qui vince chi prende prima la valigetta che è sopra. Compendentors can do whatever they want outside of the ring. It's an amazing atmosphere in this arena tonight. Ouch! He's going to be bruised from head to toe before this one's over. Ah, look at this! And that punchline is hard. Somehow, someway, he figured out a way to make this even more violent. He's got him hooked. And that one hurt his hand. Stepney was ashamed of having put on the ground. Mr. Figure, however, TMGamer... Ha accorto l'occasione per eliminarlo un po'. He's going up the ladder! Oh, I don't know if the ladder is going to be up the ladder. Oh, I don't know if the ladder is going to be up the ladder. He's going to be right on the ladder. Oh, no! He's going up the ladder. Oh, no! He's going up the ladder. He's going up the ladder. Oh, no! He's going up the ladder. Oh, no! He's going up the ladder. Oh, no! Wow! What an incredible Lariat! He's going up the ladder. Watch the superstar! That hand had a lot of force behind it. Bam! Oh! Oh! Ow! And the boot connects with the abdomen. I got a feeling, Michael, that somebody's going to get hurt. And get hurt badly in this one. Per quanto riguarda l'antica di Seponi Questo match di disqualificazione ha stato una guerra, nessuno di questi superiore sono probabilmente di farvi cosa succede qui oggi. E' per la lettera! Oh man, questi letter shots possono essere messo! E' stato pieno di creare la mossa con la stessa unità, sì, 22-23 per la schiena della scala. Hmm, che colpo! No, guarda questo! DDP! E là è la lettera! Un giro di bellissima! Che un giro brucioso! Ok, la scala è aperta, vediamo se qualcuno va su. Sì, l'ATM è 22 dopo aver speso il segretario. E lo fa cadere. Lui ricorda. Che dolore. Ma Stepney si è riuscito a salvare. Ora con il controllo completo. Guarda la superiore! L'esercizio. Secondo le regole di un match di qualità di qualità, il referee è semplice per stopper questo. Ora cosa? Oh, lì è che si è. Cosa è. Cosa c'è? Sto che sottoterà sull' 不occhi d'organizzazione con questa. Che un cambiamento fisico che questi gladiatori hanno portato tutti in giro. La intensità di questo ha pasado. Povero Stepney, in questo momento l'ho messo veramente male. E Mr. Feagle spacca la scala con Stepney. Eccolo, eccolo, eccomi dice il figo che si prova a prendere la valigetta. Ma Stepney interviene a fermarlo, e lo butta giù, incredibilmente. Eee, boom, beccati in pieno. Sembrava mai vinta per Mr. Feagle, ma è stato... Oh my god, here he goes! Oh, yeah, questo punto è così vicino! Ma CMGV21 va a fermarlo, e... Ecco, molto probabilmente lo butta giù Mr. Feagle dalla scala. E' stato andato a prendere una figlia. 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 Ogni il hit of weakness in the other. E' stato andato a presto con il mediano. Un pollo! 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 Oh my, just raw, unmitigated power. That'll cause some damage. Ah! He's enjoying this! Oh, a skull-crushing impact. Cut the superstar, nails it! Good grief, tremendous impact for that ladder. He's going back outside. Oh my gosh, he's going back to the right hand. Oh my gosh, he's going back to the right hand. Because he's going back to the right hand. I think he was doing it. He stole his racetrack. Oh, l'albo connessa! Oh, guarda! Oh, guarda! Oh! Eccolo, tmgamer! Se non dove vai cinta, metti gli stepni e metti gli spigo se le danno. Ok, la presa. Ma niente da fare. Eh, anche qui era un passo della vittoria, ma niente. Eccolo, va bene. Eccolo! Eccolo! Eccolo, va bene! Eccolo! Eccolo, avrai che! Eccolo, va bene! Che! La superstar wins! La superstar wins! La superstar wins! Grande vittoria per Step Me! Quindi ci vediamo al prossimo incontro!